Allora buongiorno e benvenuti a tutti a questa seconda edizione dei CEO for Life Awards, siamo qui questa mattina per condividere insieme un nuovo modo non di fare ma di essere imprese, lo faremo attraverso i progetti delle aziende che sono qui con noi oggi e che ne rappresentano uno straordinario esempio. Allora io inizierei subito chiamando sul palco, allora chiamerei con me la Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children in Italia, Giovanni Lostorto, direttore generale della Luis Guido Carli per raccontare insieme come nasce e cosa rappresenta il premio CEO for Life di quest'anno e qual è il messaggio che vuole portare. Presidente, ecco a lei, prendete posto, il palco è vostro, inviterei a parlare subito la nostra ospite. Buongiorno, adesso mi sentite. Allora è un grande piacere essere qua oggi e soprattutto vedere Save the Children che è promotrice di un premio molto speciale che è quello dei CEO for Life Awards. Io partecipo a questa comunità da circa un anno e devo dire che sono rimasta molto colpita da tutta l'energia, la leadership, la visione che tutti voi e le vostre aziende mettono per combattere contro le diseguaglianze, che è proprio quello che fa anche Save the Children. Quindi ci sono sicuramente tantissime cose in comune che richiamano un po' quello che Giordano poi stava dicendo prima, cioè il mondo è cambiato in questi due anni e mezzo, è cambiato tremendamente. Prima la pandemia, adesso le guerre, la guerra nel cuore dell'Europa, questo ha accelerato tantissimo le diseguaglianze. Se ci concentriamo un attimo sull'attualità e pensiamo alla guerra in Ucraina, questa ha una conseguenza devastante non solo nel Paese, ma ha degli effetti importanti sul resto del mondo. Prima di tutto siamo di fronte alla più grande crisi migratoria in Europa dal dopoguerra. In secondo luogo questa è una crisi che sta accelerando un'altra crisi, che è quella alimentare, la mancanza di mais, di grano, di oli fertilizzanti, stanno portando alla fame milioni di persone nel mondo. E poi nuova povertà anche in Europa. Allora noi come Save the Children abbiamo da subito lavorato in Ucraina, perché siamo lì da 2014, non ce ne siamo mai andati, abbiamo avuto dei partner coraggiosissimi che hanno scelto di rischiare la vita per rimanere a distribuire cibo, acqua e supporto salvavita. E poi abbiamo da subito cominciato a lavorare in Polonia, in Romania, in Lituania, in Moldavia, anche in Italia, per accogliere mamme e bambini. Voi lo sapete che dall'inizio della guerra ogni secondo, ogni secondo un bambino è diventato un rifugiato. Significa che ci sono 6 milioni di persone fuori dal paese e 3 milioni circa sono bambini. E quello che succede a un bambino in guerra non è solo rischiare la vita, ma è anche rischiare il futuro, perché vuol dire spezzare qualunque legame, non avere diritto a un'istruzione. Si parla dei bambini in guerra come di generazioni perdute. Per questo come Save the Children lavoriamo anche proprio per ricostruire il loro futuro. In Italia sulla protezione, per dare diritto all'educazione. Tutto questo che cosa ci dice, in estrema sintesi? Qualcosa che diceva la nostra fondatrice 100 anni fa, cioè che ogni guerra è una guerra contro i bambini. Oggi ci sono 146 milioni di bambini in guerra, ma non sono i bambini che fanno la guerra, sono i bambini che si trovano nei paesi in guerra. Quindi il premio che diamo oggi è importantissimo, perché il premio si chiama Coltiviamo la Pace, perché l'unica arma, e permettetemi il gioco di parole, contro la guerra è la pace. Quindi siamo estremamente felici che questo premio possa andare a voi tutti, che ogni giorno vi impegnate per la pace. E soprattutto mi fa piacere sottolineare una cosa, che tutto quello che noi abbiamo fatto come Save the Children non l'avremmo mai potuto fare se non avessimo avuto le aziende al nostro fianco. Quindi da soli non si fa niente, che è anche un po' lo spirito di questa community, il fatto che prima si parlava dell'umanità che lavora per l'umanità. Questo è quello che abbiamo fatto noi, grazie ai partner che ci hanno affiancato, e quindi mi fa molto piacere chiamare sul palco Angelica Carnelos, che è la direttrice della fondazione nel cuore, perché è molto bello per me che qualcuno racconti che cosa è stato fatto con noi e dia valore a questo senso di comunità. Angelica. Buongiorno, grazie. Grazie a Daniela, perché mi dà l'opportunità, come è nel cuore Ollus, di poter raccontare quello che insieme abbiamo costruito, una collaborazione. Noi siamo una Ollus, la Ollus di Enel, che è attiva da circa 18 anni in Italia e mentre è scoppiata la pandemia stavamo lavorando con Save the Children proprio su una progettualità, su una progettualità di altro tipo da portare avanti in Italia. Noi lavoriamo soprattutto in Italia e ai noi è scoppiata la crisi e quindi da subito, come è nel cuore, abbiamo pensato a fare qualcosa e distinto abbiamo pensato a Save the Children per mille motivi. In primis perché sono bravi, e questo non lo devo dire io perché lo dicono i fatti, per l'efficacia, perché già erano sul campo, già erano pronti, già avevano una progettualità in mente e quindi siamo partiti subito con loro, però contemporaneamente dall'azienda hanno iniziato ad arrivare telefonate, mail dei colleghi di tutto il territorio, dall'operaio al top manager in cui ci chiedevano vogliamo fare qualcosa, vogliamo supportare anche noi personalmente e quindi abbiamo avviato appunto con Daniela, con il suo team, una raccolta fondi destinata a tutti i dipendenti perché noi comunque avremmo donato come è nel cuore, ma il fatto che i dipendenti si sentissero così coinvolti, si sentissero così, volessero proprio partecipare e abbiamo deciso di avviare questo matching fund che si è concluso poco tempo fa e su cui si è avviata delle progettualità sia nei paesi limitrofi all'emergenza che in Italia con anche, come diceva Daniela, dei progetti un pochino più di medio periodo anche per i ragazzi, per l'integrazione nella scuola che insomma in questo momento diventa anche un tema importante e quindi mi fa estremamente piacere portare la testimonianza di Enel Cuore che è un pezzo della sostenibilità di Enel Enel crede nella sostenibilità, nella CSV, nella CSR come la vogliamo chiamare la sostenibilità di impresa come la chiamava Olivetti che insomma secondo me è stato un po' l'antesignano, non secondo me ma secondo tutti di tutto quello che è la responsabilità sociale di impresa, quindi da una parte l'ambiente in primis la sostenibilità economico-finanziaria senza la quale non potremmo essere qui insomma anche a fare quello che facciamo ma anche la sostenibilità sociale, la filantropia d'azienda che è un pezzo essenziale di questo. Poi noi cerchiamo di avere partner di livello come SAVE che hanno anche un'efficacia importante nell'impatto cioè quello che in termini aziendali chiameremmo l'IRR invece in questo caso è l'impatto sulle persone quante persone si raggiungono, in che modo però d'altra parte noi come Enel Cuore io dobbiamo dire aiutiamo chi aiuta, poi il lavoro vero lo fanno loro sul campo quindi vi ringrazio e mi fa piacere molto portare questa testimonianza per portare avanti sempre nuovi progetti insieme Grazie Io darei la parola al Presidente Fatali per spiegare la scelta del premio Sì allora grazie intanto a Daniela e soprattutto lasciatemi ringraziare Lewis, l'Università Lewis e Guido Carli la persona ovviamente del Direttore Generale Giovanni Lo Storto del Rettore, della Professoressa Romani, di tutto il team Perché questo premio? Perché come un pochino dal video avete già ascoltato la nostra community che ha solo un anno di vita sta nascendo e già raccoglie più di 200 CEO, aziende, istituzioni più di 15 ministri, sottosegretari sta diventando veramente una chiamata a donne e uomini di buona volontà che vogliono veramente cambiare le cose Quante volte ci siamo domandati durante questa pandemia cosa possiamo fare, dobbiamo fare qualcosa, mettiamoci insieme tutti ce lo siamo domandati ma nessuno che poi tirava le fila ecco noi un po' da umile servitore ho cercato di raccogliere questo grido di disperazione da una parte e di speranza dall'altra e quindi ho pensato, abbiamo pensato di mettere insieme appunto tutte queste persone soprattutto lavorando su due assi un asse orizzontale che possa mettere insieme pubblico e privato e un asse verticale che possa mettere insieme i decision maker che rappresentate dai CEO ma non solo i CEO con le nuove generazioni non a caso siamo in LUIS Allora qual è la ragione di questo premio? La ragione di questo premio è che tutti i premi dei CEO for Life Awards debbono essere una call to action quindi come dicevo nel video questa sintesi, noi non amiamo le passerelle, il greenwashing un po' nell'era draghi se volete, fare le cose più che fare show e passerelle e quindi anche il premio deve essere un progetto, una call to action deve avere un obiettivo pratico l'anno scorso ricorderete nella prima edizione del CEO for Life Awards Italia 2022 abbiamo scelto di sostenere con il premio la fondazione di Bellula mai più violenza sulle donne invitando tutte le aziende che ricevono quel premio e anche le altre qualora non stessero già facendo ad intraprendere progetti per combattere la violenza sulle donne nel loro ambiente di lavoro quest'anno la call to action appunto con Daniela, con il suo team appunto coltiviamo la pace pregherei Jessica anche di far vedere il premio che è anche ovviamente bellissimo grazie Jessica e quindi coltiviamo la pace è proprio una sintesi perfetta della call to action che vogliamo attivare ogni cosa che noi facciamo deve essere un progetto concreto anche il premio quindi questo è un invito a tutti non solo a sostenere se decidono ovviamente dal punto di vista anche finanziario con donazioni ma direi se Daniela me lo permette soprattutto come già tantissime aziende fanno grazie a Dio attraverso una collaborazione effettiva sui progetti non basta l'aspetto finanziario che è importantissimo ma dobbiamo lavorare insieme per migliorare le cose ci saranno durante queste giornate che vorrei sottolineare sono giornate di lavoro oggi perché siamo qui siamo qui per lavorare insieme questa è una riunione di lavoro non è un evento non abbiamo più bisogno di eventi non ci servono anzi sono anacronistici siamo qui per lavorare oggi siamo noi domani altri dopo domani altri ci sono tanti ministri tante personalità fra poco avremo un saluto istituzionale da parte della regione siamo qui tutti insieme per lavorare per il bene comune un po' andato fuori moda quindi ecco questo premio vuole essere una call to action sosteniamo Save the Children lavoriamo con Save the Children per le madri e i bambini dell'Ucraina ma anche ovviamente per le madri e i bambini del Darfur piuttosto che della Siria e di tutti gli altri paesi quindi è un invito a inserire nei nostri sistemi produttivi economici, sociali, politici tutte queste attività in modo strutturale quindi non oggi e poi basta ma continuare a farlo così come invito a sostenere le fondazioni di Bello e tutte quelle fondazioni e associazioni che combattono la violenza sulle donne ma non solo l'anno scorso tutti i giorni, sempre quindi che le nostre aziende possano essere come un pochino è stato detto non impegnate stile charity come si diceva una volta la foglia di fico della CSR ogni tanto faccio una donazione per carità, giusto ma unire la propria attività quotidiana il proprio business la propria attività produttiva a tutte queste altre attività che diventino un tutt'uno cioè deve entrare a far parte della cultura dell'azienda e delle azioni dell'azienda quindi vi chiedo un grande applauso per questo premio per Save the Children Allora darei adesso la parola al direttore generale della LUIS Giovanni Lostorto il tempo di sistemare i microfoni grazie 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 è proprio bello essere qui e potere finalmente raccogliere una parte dei frutti del lavoro che ci ha visti coinvolti in modo così convinto da qualche mese oramai mi fa piacere salutare il vicepresidente della regione Lazio Daniele Odori grazie per essere qua Daniele e ovviamente tutti i CEOs e gli studenti qui c'è da fare alcune cose quindi io mi scuso con Manuela cercherò di essere all'interno delle due ore che mi hai concesso però le cose che vorrei dire sono alcune e provo a metterle in fila per occupare soltanto un paio di minuti la prima è una splendida idea quella di Fatali di partire da Daniela Fatarella perché ci dà proprio la traiettoria cioè illumina il percorso di questa che è una riunione di lavoro di questa che è una settimana di riunione di lavoro per dirci si va bene certamente l'indirizzo è il PNRR è lo sviluppo del paese dopo un'esperienza drammatica come la pandemia però siamo esseri umani e abbiamo anche capito che riusciamo a sbagliare non imparando dagli errori e quindi ci ritroviamo in guerra ci ritroviamo in una guerra al centro dell'Europa e ci ritroviamo a a vedere soffrire un paese all'improvviso in modo quasi inimmaginabile certamente incomprensibile all'interno del quale ci sono donne e bambini che stanno pagando un prezzo inumano e quindi avere l'indicazione come traiettoria di svolgere il lavoro che si svolgerà in quest'aula in questa settimana certamente rivolto all'analisi del risultato che è venuto dal lavoro dei nostri ragazzi di cui adesso parlerò un secondo ma farlo all'interno di questa traiettoria diciamo emotiva è molto prezioso quindi grazie Daniela di questa indicazione anche perché è incredibilmente legato al senso profondo della trasformazione che ha avuto la nostra università in questi anni e anche qui vorrei prendere 30 secondi per darvene un cenno è davvero tagliato con l'accetta i sistemi di formazione ai quali siamo abituati sono sistemi di formazione per la competizione punto cito Montessori dicendo che come si fa a pensare di voler andare verso una epoca perpetua di pace se invece ci educhiamo a competere e quindi a farci la guerra noi dovremmo interrogarci profondamente su questo punto ma a tutti i livelli nelle scuole elementari nelle scuole medie nel liceo nelle università il valore fondativo della formazione è la competizione è sbagliato perché poi quando il laureato il non laureato ti arriva in azienda e lo dico ai CEO che sono qui presenti vorrei che andate a guardare quanto spendete in termini di budget di formazione e di sforzo e di costo organizzativo per insegnare ai vostri collaboratori ai vostri dipendenti di lavorare in team ma come? dopo che gli avete insegnato per tutta la vita a lavorare contro gli altri a studiare per essere primi sugli altri poi gli volete insegnare a lavorare in team è una fatica enorme perché li abbiamo formattati per combattere non per collaborare allora questa esperienza che noi abbiamo fatto in Lewis è straordinaria e siamo orgogliosi perché noi abbiamo affiancato a un concetto che come dire oramai è così condiviso da essere sotto la pelle di tutti quanti noi del cosiddetto lifelong learning quello che noi abbiamo chiamato in Lewis provando a giocare un po' con le parole life large learning e staccando l'aggettivazione non è life large learning la vita la parola vita CEO for life non la aggettiviamo e life large learning andiamo ad aggettivare l'azione cioè noi proviamo ad allenarci ad un apprendimento vasto grasso ampio e qual è questo apprendimento vasto grasso ampio è l'apprendimento del confronto con la vita con la vita reale sono oramai molti anni che i nostri studenti d'estate anziché andare in vacanza subito poi vanno anche in vacanza vanno a lavorare con le donne nel carcere detenute nel carcere di Lecce a Re Bibbia vanno a lavorare nei campi confiscati alla criminalità organizzata lavorano nel nostro orto qui in Veneromania per imparare che la lentezza è un valore e che si può imparare anche dal collaborare con ragazzi per esempio autistici che ti insegnano che ci sono altre normalità con le quali si può costruire anche un percorso di apprendimento vanno a lavorare con Save the Children abbiamo 20 ragazzi che andranno 15 in una in una iniziativa che si chiama volontari per l'educazione e altri 5 che superteranno gli educatori del centro di arcipelago educativo in Aprilia e questa collaborazione con Save the Children è una collaborazione di cui siamo molto orgogliosi ma in questa traiettoria adesso stiamo per lanciare anzi mi fa piacere di accennarlo qui a tutti i CEOs presenti oggi ma poi chiedo a Giordano di attivare una comunicazione ampia per poi coinvolgere tutti i CEOs del progetto Save for Life un progetto che abbiamo idea di chiamare Empowering Ukraine Women ed è un progetto che ci impegnerà nella raccolta di almeno un milione di euro per lanciare progetti borse di formazione e inclusione lavorativa per donne diciamo rifugiate ucraine è un progetto al quale teniamo moltissimo e che lanceremo con CEO for Life ed Italia Camp che è il nostro partner storico anzi saluto e ringrazio i ragazzi di Italia Camp ecco allora tutto quanto questo e chiudo io l'ho sintetizzato in una proposta di una piccola riflessione che ho mandato proprio ieri sera al direttore del Corriere della Sera e che spero e quindi vi faccio un piccolo una piccola anteprima un piccolo scoop e che spero che Luciano voglia essere così generoso da pubblicare nella pagina dei commenti nei prossimi giorni e cioè c'è una immagine e chiudo molto bella che di cui una suggestione che ha lanciato qualche anno fa quel genio di Renzo Piano Renzo Piano ci ha detto che noi dovremmo per provare a far fare un scatto in avanti al paese dobbiamo provare a recuperare le periferie e quindi a rammendare le periferie urbane ecco io giocando su questo concetto che è molto bello e molto importante e provando a riflettere in maniera un po' più appunto larga su questo tema mi veniva in mente ed è quello che ho provato a proporre in questo commento per il Corriere mi veniva in mente che con l'ago e col filo si può rammendare ma quando rammendi sostanzialmente certamente cerchi di avvicinare al nuovo ciò che non è più nuovo e lo fai assomigliare in questa verosimiglianza che aiuta tutti a migliorarsi non c'è dubbio ma con l'ago e col filo ricordavo che mia nonna non soltanto rammendava ma a volte ricamava e allora forse si può non soltanto aggiustare ma si può anche creare il bello perché ricamando si crea il bello non si aggiusta l'usato e allora insieme al preziosissimo rammendo delle periferie urbane secondo me un'iniziativa come questa che vede i nostri ragazzi che tra un attimo ringrazio tutti e chiudo si può non soltanto rammendare le periferie urbane ma potremmo provare anche a ricamare con le periferie umane che sono ovunque non sono solo nelle periferie urbane ce ne sono molti anche nel centro urbano o al centro delle nostre volontà di fare le cose a volte non sempre in maniera corretta ed appropriata quindi allora questa progettualità è una progettualità che ci ha convinti che ci ha coinvolti siamo molto orgogliosi hanno lavorato tantissimo le nostre strutture per tutti voglio ringraziare la professoressa Simona Romani il nostro prolettore per le lauree magistrali per l'innovazione della didattica che non può essere qui ma che ci saluta tutti per questo evento insieme alle persone di SEO4Life voglio ringraziare Alessia Simeone Valentina Scarpa Bonazza e Alex Barfus ma Massimo Angelini con il suo team e poi l'ufficio stampa e insomma c'è un sistema di persone che credono fortemente in questo progetto e che lavorano con molta intensità lì e di Giovanni e le persone delle strutture coinvolte di lui e poi e poi non soltanto tutti i CEO che fanno parte della community di SEO4Life ma lasciatemi dire io faccio uno dei lavori più belli che si possano immaginare perché è faticoso lasciatemi dire che è faticoso normalmente si finisce la notte molto fonda e si inizia la mattina molto presto però alle 6 e 3 abbiamo fatto molte riunioni con Giordano alle 6 e 3 del mattino insieme ai ragazzi che ci giustavano i progetti e i cosiddetti SDG's Coffee però nonostante sia certamente diciamo impegnativo è uno dei lavori è il lavoro più bello perché mentre Giordano aspira con i suoi CEO a lavorare per la vita io lavoro nella vita perché noi lavoriamo con questi ragazzi che sono straordinari noi eravamo letti come gioventù bruciata noi degli anni 80 vi ricordate 90 e loro sono una gioventù incendiaria cioè loro hanno nelle loro mani la voglia della trasformazione dice Peter Fisk che chi vivrà nel chi avrà la nostra età nel 2100 ci ed è qualcuno che deve ancora nascere tanto per capirci che nascerà nel 2050 se volesse avere la mia età nel 2100 e ci invidierà profondamente perché noi abbiamo vissuto l'epoca della trasformazione ecco se questo è vero la trasformazione è nelle mani di questi ragazzi e quindi lasciatemi dire che sono molto molto orgoglioso per il lavoro che hanno fatto grazie allora Daniela Fatarella l'ha accennato un po' il direttore questo progetto volontari per l'educazione ci può spiegare meglio di che cosa si tratta? Sì è stato prima di tutto grazie mille parole che hanno profondamente ispirato noi abbiamo avuto il privilegio di lavorare con gli studenti LUIS sotto tanti punti di vista incluso appunto volontari per l'educazione che è stato un progetto che è iniziato durante la pandemia quindi è stato un progetto innovativo perché in un momento in cui non si poteva uscire di casa e vedere le persone abbiamo messo in connessione studenti universitari e bambini a rischio di dispersione scolastica attraverso un computer e questo ha permesso proprio di mettere a fattore comune le competenze degli studenti per poter aiutare i bambini che rischiavano di non tornare più a scuola è stato un progetto di grande portata perché ha raggiunto migliaia di ragazzi ed è stato un progetto che ha visto grande passione grande intelligenza grande competenza e grande capacità di mettersi in gioco io mi ispiro un attimo a quello che è stato detto adesso per fare un piccolo inciso Save the Children prima di tutto questa è una comunità bellissima perché si parlava proprio dell'umanità per l'umanità allora riflettendo condivido con voi alcune parole che sono della nostra fondatrice Glantine Jebb lei cento anni fa diceva una cosa molto forte cioè diceva che è impossibile salvare i bambini solo se ci rifiutiamo di farlo e lei diceva che per salvare i bambini dalla loro miseria servono tre cose risorse conoscenza e volontà allora mentre stavate parlando ho pensato che questo è il posto giusto è il posto delle risorse voi siete i detentori delle risorse però è il posto della conoscenza voi avete grandissima conoscenza è quello che diceva Giordano noi non abbiamo bisogno solo di soldi abbiamo bisogno di competenze di partnership di alleanza di sostenibilità una donazione one shot grazie mille ne siamo onorati felicissimi non cambierà il futuro del mondo e poi conoscenza siamo a casa della conoscenza quello che io qui ho visto in un anno è la volontà sicuramente la volontà di Giordano ma la volontà di tutti voi e di tutti noi allora un po' la sfida per trasformare l'impossibile impossibile quindi cambiare è questa anche perché e lo diceva Giovannini nel suo speech non possiamo lasciare solamente al pubblico la trasformazione ma sta a tutti noi privato e non profit per cui l'appello più forte che faccio oggi è che questa è la comunità delle risorse della conoscenza e della volontà e questo è il momento in cui può essere messa a fattore comune per una missione come quella dei bambini e mi dispiace contraddire ma noi facciamo il mestiere più bello del mondo perché noi lavoriamo con l'infanzia e vediamo una cosa incredibile nell'infanzia che è la resilienza e la trasformazione ma i ragazzi a me hanno insegnato sempre una cosa estremamente importante basta parlare di futuro perché il futuro è nel loro presente è ora quindi quello che bisogna fare è agire adesso e mi fa estremamente piacere chiudere ringraziando voi tutti e lasciando la parola a Victoria Usak che è una nostra volontaria per l'educazione ma poi è diventata una volontaria Drusi e ci spiegherà perché grazie Victoria grazie Daniela e oggi io vorrei portare in prima persona una mia testimonianza su quello che attualmente sta facendo Save the Children con il progetto Drusi Drusi in ucraino significa amici ed è stato creato da diciamo è in corso questo progetto dove dei volontari dei volontari madrelingua ucraini o russi ma persone che vivono da anni in Italia sostengono dei rifugiati che grazie anche a Save the Children sono riusciti ad arrivare in Italia e io devo dire che sono stata molto emozionata due mesi fa a fare i primi incontri con questi beneficiari perché effettivamente magari erano solamente due settimane che loro si trovavano in Italia loro si sentivano estrani in un posto che non conoscevano e vedevano l'Italia come un posto estraneo ho riconosciuto in loro varie caratteristiche ho imparato a conoscerli da chi era timido e quindi non voleva parlare da chi invece ti metteva un muro perché non ti conosceva ma la cosa più bella era vedere invece chi era curioso chi ti faceva domande chi nonostante sia arrivato qui non per una vacanza ti riusciva a dire ma quanto è bella Roma e poi c'era chi invece raccontava di sé come se stesse parlando con un amico certo noi volontari qui sappiamo il nostro ruolo non siamo degli amici veri però effettivamente in quel momento di incontri un'ora settimanale ci sentiamo effettivamente degli amici l'amico che ti ascolta e a volte degli incontri è solamente sentire quello che il ragazzo ha da raccontare come è passato la settimana adesso per fortuna tutti loro quasi hanno iniziato ad andare a scuola quindi le prime difficoltà ma anche le prime emozioni di ritornare a vivere in un contesto sociale era quello che a loro mancava ed effettivamente siamo stati noi un pochino a colmare quella mancanza nel piccolo di quello che potevamo fare e ci sono storie molto belle cerco di riassumerle diciamo in un modo molto breve del sentire di unire hobby e dove ci troviamo per esempio se ti piace disegnare allora magari proviamo a fare una copia di un dipinto famoso italiano quindi allo stesso modo diventa anche conoscenza quindi integrare il ragazzo tramite quello che gli piace fare tramite la musica le canzoni sono stati commentati ovviamente gli Eurovision che si sono tenuti quindi portare una conoscenza in questo e io devo dire che dopo due mesi adesso vedo in questo progetto un cambiamento vedo un cambiamento di questi beneficiari perché adesso mi trovo un po' dietro le quinte ma raccolgo storie colleziono storie di questi ragazzi che si trovano qui e vedo che un qualcosa in loro è cambiato iniziano a vedere una positività un loro ruolo una loro posizione in Italia e quindi effettivamente dal dire ma quindi ce la farò a imparare l'italiano mi aiuti oppure anche solamente chiedere su delle cose banali della vita oppure come è l'università non sono ancora ragazzi universitari ma già chiedono questo però effettivamente lo fanno per una volontà magari di vedersi ancora qui e quello che mi ha colpito di più e con questo chiudo è stata una ragazza che ha detto io finalmente riesco a godermi Roma la mia vita ad uscire però a un certo punto mi sento in colpa di questa mia spensieratezza perché so che in questo momento dei miei amici non hanno la possibilità di vivere questa spensieratezza io mi ritengo fortunata di essere qui ed effettivamente questa è una cosa che non deve succedere perché a dei minori e a dei ragazzi non deve essere mai negata la possibilità di sentirsi spensierati perché non è sicuramente la loro colpa di quello che succede e quindi ringrazio City Children e tutti quelli che supportano questo progetto per diciamo tagliare questi ponti e portare a una integrazione sempre più veloce di questi ragazzi arrivati qui grazie grazie